Ogni volta è un'avventura con Pirata e Capitano Un mese! Ti rendi conto, Maramiao? Un mese senza trovare nemmeno il più piccolo minuscolo segno di un tesoro Non sono neanche riuscita a capire dove si è nascosto quello di Giacomina la Rosa E questa? No! Questa? Sì, è perfetta! E tutto quello che ho? Abbiamo il necessario per fare un super finto tesoro Sì, Ananas, c'è anche una favolosa finta mappa per trovarlo Un pirata che non trova niente da mesi sarà un po' scoraggiato Ma fortunatamente ci sei tu, per pirata Fortunatamente noi ci siamo Andiamo, Ananas Bombot! Dobbiamo nascondere un tesoro! Si parte! Teschio rosa in vista! Pirata non ci deve sentire! Hai ragione, è meglio spegnere il motore! Allora tutto a posto, è ancora nella sua cabina? Sì, 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 non si è mai mossa! Avete ben chiari tutti i passaggi del piano? Sì, è tutto molto chiaro! Grandioso! Adesso tocca a te! Vado a nascondere il primo indizio! D'accordo, a più tardi! Ah? Capitano? E hop! Ho sentito un idrovolante! Capitano è venuto a trovarci? No! Noi non l'abbiamo visto! Oh, un oggetto in mare, che sarà? Oh? Che cosa? Dove? Oh, per tutti i ricci di mare in vacanza! Ma quella è una bottiglia! Ecco fatto! Mi domando che cosa sia! E se fosse la mappa di un tesoro? L'ha sicuramente disegnato un pirata! Lo sapevo! È firmato da un pirata di nome Ragnetto Zampalunga! Che meraviglia meravigliosa! Già! Ha nascosto il suo tesoro a largo dell'isola delle nebbie blu! Ah, il tesoro è un passo dalla riva! Presto! Pronti per la caccia al tesoro! Sì! Pronti per la caccia al tesoro! Pronto per la caccia al tesoro anch'io! Levate l'ancora! Spiegate la grande vela! Ancora levata! Grande vela spiegata! Pronti per l'avventura! Ho capito, Ananas! Non c'è bisogno di ripeterlo! Un passo dalla riva è qui! Alla prossima mossa! Presto! Grazie, Bebo! Perfetto! Vado! Ai! Lo so, Pirastelli! Un passo dalla riva è qui! Oh! Scusa tanto! Eccolo! Ho trovato il tesoro! Ecco fatto! Secondo indizio sotterrato! Procediamo! Sì, a quest'ora Pirato avrà già trovato il primo! Un'altra pergamena? Ottimo lavoro! Ma un tesoro come il mio marito ha un altro sforzo! Le sfide non ci spaventano, vero amici? Per trovarlo raggiungi l'isola della Freccia e scava appena sbarchi! Firmato Ragnetto Zampalunga! Ah! La caccia al tesoro continua! Si riparte! L'ha già trovata! Perfetto! Se vuoi davvero il mio tesoro raggiungi la spiaggia dell'isola Trullina Conta 11 passi a nord da una roccia a forma di teschio Firmato Ragnetto Zampalunga Che strani tutti questi indizi! Ah, perché li trovi tanto strani? Forse è un grande tesoro! Molto grande! E per niente strano! Per caso questa caccia al tesoro è troppo complicata per te? Troppo complicata? Ah, neanche per scherzo! Ai vostri posti, amici! Andiamo a prendere il tesoro! A presto! Allora, secondo la mappa del pirata Ragnetto Zampalunga dobbiamo prima di tutto trovare una roccia a forma di teschio Oh, finalmente, eccola là! Presto, andiamo! Dunque! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e undici Il posto è questo, Bebo! Puoi fare una buca, per favore? Eh, no! Niente? Non riesco a capire! Eppure ho contato undici passi nella direzione giusta! Dove potrei aver sbagliato? Andiamo, pirata! Sono sicuro! La troverai la soluzione! Ah, Ragnetto Zampalunga! Ah, ma certo! Se il soprannome che gli hanno dato deve avere delle zampe molto lunghe! Bebo, devi misurarli tu i passi! D'accordo! Uno, due, tre, quattro! Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e undici! Ehi, deve esserci qualcosa qui dentro! Ah, ero sicuro che l'avrebbe trovata! Torna subito qui, piccolo ladroncolo! Il mio tesoro! Quello è il mio tesoro! Ai, ai, questo non era previsto! Ananas è un granello di sabbia nel nostro piano! Tu a tribordo! Io a babordo! Ah, eccolo lì! Cosa? Capitano? Ma che ci fa qui? Grazie, Bebo! Prego, ma abbiamo perso la pergamena per pirata! Beh, vorrà dire che ne faremo un'altra! Allora, così, così... Ecco fatto! Questa caccia al tesoro le farà tornare il sorriso! Pirata! Pirata! Ho la pergamena! Eccomi qui! Pirata! Ho raggiunto il trollino! Non sono riuscito a prendere la nocce di cocco, ma si è aperta in volo e la pergamena è caduta! Eccola qui! Oh, che bello! Ah, che fortuna! Grazie, Bebo! Andiamo! Oh, non si è accorta di niente! Arrivò! Allora? 45 gradi a sud, 28 gradi a est... Vado a controllare sulla cartina! Torno subito, amici! Senza, Capitano, il nostro piano sarebbe andato a monte, ma è riuscito a fare un'altra mappa! Ed è anche l'ultima! Sì, e il nostro comandante troverà il suo favoloso tesoro! Evviva! Evviva! Ti rendi conto, Maramiao? Si sono inventati un tesoro, le pergamene! Tutto questo organizzato solo per farmi contenta! Yuhu! Sono dei grandi amici, eh? Ora sta a me non deluderli, riuscirò a trovare il loro tesoro! Coraggio, amici! Tutti ai vostri posti! Dobbiamo trovare un tesoro! Ah, eccolo qui! E hop! Oh, il mio tesoro! Guarda, Bebo! Un seffante! Oh, sotto i tuoi piedi, Bebo! Guarda, ho già visto quel disegno nel codice della pirateria! Ma certo, lo riconosco! È il simbolo di Giacomina la rosa e sta indicando da quella parte! Oh, una grotta! Guarda, non ci posso credere! Oh, le memorie di Giacomina la rosa! Ti rendi conto? Era uno dei più grandi pirati del grande oceano! Che grande pirata! Ha trovato un vero tesoro! Lo cercavo da tantissimo tempo e l'ho trovato per merito vostro, amici! Che? Merito nostro? Come sarebbe? Ma sì, avevo capito che il ragnetto Zampalunga non esiste! E che voi mi avete organizzato una caccia al tesoro! Grazie, grazie, amici miei! Ci sorprendi sempre, pirata? Eh già! Anche con una falsa pista tu trovi un vero tesoro! Che grande pirata! Anche tu sei un grande pirata, capitano! Ah no, io sono un aviatore! Può darsi, ma senza la tua caccia al tesoro non avremmo mai trovato le memorie di Giacomina la rosa! Brindiamo! A pirata e a tutti i suoi tesori! Il più prezioso dei tesori è avere degli amici come voi, equipaggio! All'amicizia! All'amicizia! Sì!